La fratellanza è una cosa molto importante, è quella che ci fa combattere bene, è quella che ci fa rispettare l'un l'altro e ci spinge a imparare, a praticare per dare sempre un spettacolo migliore. La fratellanza è una cosa fondamentale all'interno della compagnia. Tutti dobbiamo essere uniti, tutti nella stessa maniera e quella è la nostra fratellanza. È forse la cosa più bella e più sentita fra di noi. Sembra, soprattutto quando facciamo delle manifestazioni lunghe, magari tre giorni, cinque giorni, sembra che ci si conosca da sempre, da tantissimo tempo perché siamo molto affiatati. La fratellanza è una cosa più bella. Partiamo la mattina, stiamo vivendo anche due giorni e viviamo come se fossimo una grande famiglia, quello che siamo, siamo un gruppo di amici e una grande famiglia. La fratellanza è quella che ti serve per essere uniti, per essere militanti in questa compagnia. E questa è la cosa fondamentale, senza questa non ci sarebbe compagnia, non ci sarebbe spada, non ci sarebbe niente. Non può esistere, ci deve essere un legame che va al di là di quello che è la spada o il gesto sportivo, tutto quanto. Ci deve creare innanzitutto un'intesa per quando combatti, ma poi soprattutto è il gruppo che ti fa fare questo. L'essere in sintonia uno con l'altro, sentirsi veramente legati, uniti, con gente sulla quale sai che puoi far conto di noi in situazione. La fratellanza ormai è diventata una sorta di cameratismo. Noi siamo uniti non solo da questa specie di sport, ma è proprio l'intorno, fare le manifestazioni tutti insieme, i pranzi, le cene che si possono fare, uniscono molto e creano questo gruppo di fratelli, nel vero senso da parola. La fratellanza è uno dei valori fondamentali del nostro gruppo ed è presente nel nostro gruppo da quando ci siamo conosciuti, da quando ci siamo incontrati ed è cresciuta nel corso del tempo. La fratellanza è uno dei valori fondamentali del nostro gruppo da quando ci siamo incontrati ed è la fratellanza è uno dei valori fondamentali del nostro gruppo di fratelli, Grazie per la visione